signori ben ritrovati nel canale di simodefa se pensavate di trasferirvi in america per diventare dei prop firm trader beh ecco io ci penserei due volte infatti ftmo ha annunciato nel proprio sito che a partire da gennaio 2024 i clienti statunitensi non potranno più partecipare a nuove challenge quindi ragazzi in america non possono più tradare tramite ftmo chiaramente quello che noi dobbiamo capire è che cosa porterà l'industria a questo ban di ftmo in america quindi come si comporterà l'industria del mondo delle prop e che ripercussioni avrà su noi clienti europei diciamo che nella nostra vita affrontiamo sempre dei problemi e anche nel mondo della finanza affronteremo sempre dei problemi io ragazzi faccio trading investo da ormai diversi anni nei mercati finanziari e possiamo dire che ho visto di fronte a me diversi fallimenti per esempio il caso di ftx nel mondo delle cripto diverse chiusure anche nell'ambito delle prop per esempio my forex fond o the prop trading quindi noi dobbiamo sapere che quando iniziamo un percorso ci saranno sempre delle difficoltà per fortuna ragazzi noi siamo in europa quindi la giurisdizione europea è diversa da quella americana in america si è molto più controllati soprattutto dal lato degli investimenti e è più probabile che ci siano regolamentazioni che vanno a bloccare queste aziende che prestano denaro che offrono questi servizi finanziari in europa per il momento siamo abbastanza tranquilli ma come vi dicevo prima ogni volta che ci si pone un problema davanti dobbiamo trovare le soluzioni quindi che cosa possiamo fare beh al momento ragazzi ftmo in europa è accessibile quindi voi potrete tranquillamente continuare a tradare con ftmo chiaro è che questo evento ci fa ci mette davanti agli occhi il fatto che il nostro trading all'interno delle prop non è mai sicuro al 100% perché potrebbe cambiare una determinata regolamentazione che non permette più a noi clienti di operare quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto partire dal fatto che adesso si può continuare a tradare in europa con ftmo e anche con altre grandi aziende e capire che questo è un precedente quindi magari altre aziende potrebbero essere bloccate in america pian piano magari si arriverà al ban delle prop in europa o l'europa decide di cambiare delle regolamentazioni per cui le prop si dovranno adattare quindi magari saranno chiuse per un determinato periodo di tempo piuttosto che una prop viene chiusa e le altre rimangono aperte in ogni caso non penso che il mondo del prop firm diciamo sparisca da un giorno all'altro ci sono sempre delle ottime alternative come quelle che vi mostro qui davanti come vedete ci sono delle aziende che hanno la sede in america ma aziende che hanno la sede fuori dall'america ecco io magari vi consiglio di approcciarvi a quelle aziende che hanno la sede fuori dagli usa perché appunto come abbiamo detto prima la regolamentazione in america è piuttosto più severa rispetto a quella europea al di là di ciò possiamo dire che la news è appena uscita quindi fra poco capiremo le ripercussioni che avrà nel settore ripeto ad oggi vi consiglio di guardare alle alternative o eventualmente di tradare in un broker forex i broker sono delle istituzioni regolamentate di norma ragazzi non non ho mai visto in questi anni di trading un broker essere chiuso quindi diciamo dal lato mio cosa posso consigliarvi anche se questi non sono consigli finanziari il fatto di diciamo affidarvi alle migliori piattaforme ftmo rimane la migliore piattaforma ripeto si può continuare ad utilizzare in europa ma noi non sapremo mai cosa succederà in futuro questo è il mondo della finanza il mondo del trading il mondo delle prop firm noi siamo dei clienti dei pesci in un oceano e dobbiamo solo adattarci a chi fa le regole da simodefa anche per oggi è tutto io sono arrivato alla fine lasciate un like per supportare il mio lavoro iscrivetevi al canale per seguire tutti i prossimi contenuti e fatemi sapere nei commenti se l'argomento prop firm vi interessa perché se così fosse continuerò a portare argomenti al riguardo noi ci vediamo nel prossimo video ciao Grazie a tutti.